La pazza stagione del Catania continua a regalare emozioni e colpi di scena all'ambiente rossazzurro, che di sicuro fino a qualche settimana fa non pensava di poter assistere ad un filotto di vittorie così importante messo a segno dalla squadra di Marcolin. Il successo di ieri inoltre è sembrato diverso da quelli precedenti, perché ha manifestato non solo la forza tattica dell'undici sceso in campo, ma anche e soprattutto la superiorità tecnica di un gruppo che adesso sembra aver cancellato di botto tutte le paure che si portava dietro già dalla scorsa stagione. Anche la partita di Latina è stata ricca di episodi, ma stavolta il Catania ha dimostrato di voler vincere a tutti i costi anche dopo essere stato raggiunto su un pari che sarebbe stato decisamente stretto ai rossazzurri, che prima dell'1-1 avevano fallito diverse occasioni per blindare quel gol messo a segno con grande personalità da maniero. Anche i padroni di casa hanno avuto le loro chance, è giusto riconoscerlo, ma nel computo totale la squadra di Marcolina ha creato molto di più dei pontini e quindi se fosse finita in parità il Catania avrebbe potuto recriminare con se stesso. Questa squadra per oggi pare davvero avere qualcosa in più di un mese fa e di certo non si tratta solo di mentalità ma soprattutto di condizione atletica, come si è notato anche a Latina dove i rossazzurri sembrano andare a velocità doppia rispetto agli avversari. Alla fine quindi il gol di Chaudone non è stato solo una liberazione ma anche una conferma di quello che si è visto sul campo, che ha regalato così al Catania il secondo successo esterno consecutivo. Adesso arriva la Ternana e i rossazzurri dovranno fare di tutto per non fermarsi e continuare a vincere, rimandando qualsiasi velleità e volo pindarico a quello che potrebbe essere il momento della verità di fine campionato. La squadra di Tester per oggi pare davvero alla portata del Catania, che nel frattempo potrebbe anche recuperare Callaglio e Schiavi anche se perderà proprio Chaudone per scuolifica. Ma questo oggi non spaventa più Marco Lin che avrà il compito di disegnare l'ennesima formazione d'assalto per andare in cerca di una nuova vittoria.